sempre riscaldamento ok ma l'intensità l'ho deciso io l'avete deciso voi avete dovuto pensare io vi ho detto cosa pensare cosa fare fino a deciso e l'intensità rispetto al primo come era molto più alto e le difficoltà aumentavano o no il piacere più bello andare in giro portare palla tutti 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 facciamo un passaggio oppure fate quello che è giusto fare quello che cerchiamo un po questo siete voi protagonisti e poi cerchiamo di crescere sempre durante l'esercizio dare una progressione all'esercizio questo che abbiamo messo adesso prima l'abbiamo fatto senza pressione adesso con pressione prima senza pressione con pressione però adesso abbiamo fatto perdere punti e la concentrazione sale ancora di più nessuno vuole tonare azienda questo si chiama elemento marker che è un momento che se sbaglio le squadra paga è come essere al mondiale al 94 00 contropiede 1 contro 1 col portiere tensione alta se sbaglio di squadra se faccio bene la mia squadra noi dobbiamo abituarci in allenamento avere dei momenti che siamo sì dei singoli ma all'interno della squadra quindi dobbiamo abituarci a sopportare anche un po di pressione in caso d'errore però l'errore ci sta fa parte della vostra crescita fa parte del vostro bagaglio nel settore giovanile ok ora rifacciamo la stessa cosa ma